State cercando di aiutarmi? Sicuri? Non serve, Landon mi ha dato due settimane. Facciamole vedere. Ok, allora, mettendo insieme tutte le foto che Anna ha postato e quelle dei suoi amici, possiamo ricostruire i suoi spostamenti. 2011, Anna Sorokin se ne va via dalla Germania per frequentare un corso di moda alla Central Saint Martins di Londra, che molla subito andando a Parigi. 2013, la signorina Delvey ottiene un tirocinio al Purple Magazine. Quando ha deciso di cambiare cognome in Delvey? È impossibile capirlo. Lei dice che è il cognome della madre. Ho cercato, non risulta. Questa ragazza è una sorpresa dopo l'altra. 2013, la signorina Delvey continua a lavorare. Fa un viaggio dalla Francia fino agli Stati Uniti per una vacanza a Montaac con i colleghi. E si è trovata bene perché invece di tornare a Parigi con gli altri, il 13 agosto, Anna fa il suo prodo a Manhattan. E cos'altro è arrivato a Manhattan in quel periodo? Debola? Coincidenza? Sta zitto. Sta zitto tu. E conosce Val. Lo incontra qualche giorno dopo. Lui ha rimosso tutte le foto scattate ad Anna, ma se mettiamo a confronto i due feed... Acme Bar, Acme Bar, coincidono. Le persone al giorno d'oggi mettono online qualsiasi cosa. La prova si è finita, ma io ho appena iniziato. Questo vi piacerà, è l'account di Chase. Grazie. Grazie.